ariete oggi al lavoro ogni tassello andrà esattamente a comporsi come vorrai forse la tua settimana lavorativa si concluderà con una soddisfazione inaspettata toro piccole cose oggi ti faranno pensare che un mondo migliore è possibile a partire da te che spesso pecchi di acidità gemelli che le tue nuvole nere siano volate via il sorriso la serenità e la positività che trasmetti oggi è impossibile non guardarti cancro la tua giornata sarebbe migliore se solo oggi saturno non fosse contro e tu non gli lasciassi il potere di rovinarti la giornata leone giornata di tale serenità che neanche l'afa e il caldo snervante potrebbero alterare giornata di scelte importanti che non puoi rimandare vergine finalmente tu con amici o family farete un weekend fuori quello che conta è che finalmente ti riposerai un attimo bilancia venere seduttiva e passionale come non mai arriverai tardi al lavoro e avrai tutto il giorno la testa altrove scorpione litigate furibonde perché pare ti interessi solo il lavoro qualcuno è stanco della tua assenza sagittario non vedrai l'ora già alle ore 8 del mattino che arrivi sera sai che ti aspetta una serata in ottima compagnia e tu hai solo voglia di far festa capricorno nonostante il caldo sotto le lenzuola non deluderai le aspettative fuori dalle lenzuola la giornata arrancherà acquario per fortuna oggi ha una grande delusione seguirà una grande soddisfazione soprattutto la consapevolezza che tu dai e darai sempre il massimo pesci negli occhi solo il mare hai voglia e bisogno di un sano weekend mangereccio di riposo fisico e ancor più mentale